ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video oggi andiamo a realizzare una nuova ricetta di bellezza e questa volta è un detergente scrub per il viso al carbone è una ricetta che mi avete chiesto in tantissimi e finalmente sono riuscita a realizzare un prodotto che mi sta piacendo davvero molto 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 ma andiamo subito a vedere come realizzare questa ricettina di bellezza vado a versare in un contenitore un sapone delicato un quarto di tazza ma potete utilizzare anche per esempio il detergente per i bimbi e poi la stessa quantità quindi un quarto di tazza di argilla bianca e poi due cucchiai di semi di papavero e questi daranno l'azione esfoliante al detergente la stessa quantità due cucchiai di olio e come sempre vi dico utilizzate un olio leggero adatto al vostro tipo di pelle e poi ancora mezzo cucchiaino di carbone e questo qui ve l'ho mostrato in un video all dedicato a wish e se volete andiamo a provarlo insieme in un altro video e infine vado ad aggiungere anche 10 gocce di olio essenziale di tea tree ma voi andate ad utilizzare mi raccomando le dosi consigliate sulla boccetta a questo punto non mi resta che mescolare tutto molto molto bene basterà davvero un minuto di più vado a versare il contenuto all'interno di un barattolino e io utilizzo un vecchio brattolino di un vecchio detergente finito ecco qua il detergente scrub finito ricordatevi semplicemente di andarlo a shakerare ogni volta che lo andate ad utilizzare in modo da riamalgamare completamente tutti gli ingredienti soprattutto i semi di papavero questo è il risultato finale io come sempre spero che l'idea vi piaccia lasciate un mi piace al video se vi è piaciuto il video se volete un altro video di questo tipo iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video e niente con questo è tutto noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video ciao